Gentile ospite, l'hotel Continental, inaugurato nel 2008, è un moderno complesso alberghiero, a 4 stelle. Dotato, di 70 camere insonorizzate, possiede un ampio parcheggio riservato, e coperto. Circondato dal verde, nel territorio di Zola Predosa, poco fuori Bologna. Ricezione e caffetteria, aperte 24 ore su 24. Sono a disposizione gratuitamente, per i nostri ospiti, Internet Wi-Fi, Cassaforte per PC, Mediaset Premium. La colazione internazionale, è a buffet, dolce e salata, con caffetteria espressa. Viene servita, dalle ore 7, alle ore 10 e 30. In occasione di eventi, viene prolungata, fino alle ore 12. Si usano solo prodotti freschi, non surgelati. Disponibili anche prodotti per celiaci. La struttura alberghiera, è provvista di accessi, percorsi, e camere, per diversamente abili. L'hotel Continental, accetta animali. Le 70 camere, dell'hotel Continental di Zola Predosa, sono arredate con stile, sobrietà, ed eleganza. Disponibili anche camere, con vasca idromassaggio, ed ampia terrazza. A soli 8 km dal centro storico, vicino all'aeroporto, ai principali raccordi autostradali, al polo fieristico, all'Unipol Arena. E a solo 2 km, da un campo da golf, a 18 buche.